Salve a tutti e bentornati su A Game of Talks, io sono Giorgia e questo è il canale interamente dedicato alle cronache del ghiaccio e del fuoco di Sua Maestà, George Martin. Saga dalla quale è stata tratta la, purtroppo, ben più nota serie Il Trono di Spade. Perché nasce questo canale? Mi potreste chiedere. Già conosciamo la storia di Westeros, mi potreste dire. No, vi dico io. E se non mi credete, sedetevi qui con me mentre vi racconto le vicende che rendono epica questa saga. Sigla! Nell'attesa di preparare il prossimo Perché Odio, oggi andiamo avanti con la rubrica Read With Me, dove continueremo la lettura del primo libro della saga, Il Gioco dei Troni, dove leggeremo l'ottavo capitolo, già ottavo, che bello, capitolo di Bran Stark. Diciamo che con questo capitolo chiudiamo il prologo della serie, quindi loro hanno schiaffato otto capitoli, tutti in una singola puntata, senza far capire un cazzo a nessuno, solo per arrivare in questo specifico momento. Quale sarà la caduta di Bran? Momento molto importante sia per lo sviluppo poi della storia, che sarà un tassello molto importante per la faida tra Stark e Lannister, e sicuramente, insomma, molto importante per la storia di Bran, che da qui ha uno shift incredibile. Comunque, mettetevi comodi, prendete uno snack e cominciamo! L'ottavo capitolo si apre con Bran, che ci sta dicendo che il re e suo padre hanno organizzato una battuta di caccia per, diciamo, festeggiare il fatto che l'indomani Ned e Robert, insieme alle loro famiglie, nel caso di Ned, ovviamente, Sansa, Arya e Bran, partiranno per il sud. Questa battuta di caccia sono stati citati sicuramente gli eredi dei rispettivi castelli, quindi sia Geoffrey che Robb possono partecipare alla battuta di caccia in quanto eredi. Anche Benjen può, ovviamente, andare in qualità, ovviamente, di fratello di Ned, ma non solo, anche come guardiano della notte, che comunque è una carica importante e riconosciuta all'interno dei Sette Regni. Poi, ovviamente, Jory Castle, sempre il secondo di Ned, dove va Ned c'è anche Jory Castle. Theon, ovviamente, come in qualità di protetto di Ned, e Sir Roderick, ovviamente. Dove, invece, Bran è rimasto al castello insieme a Jon, Rikon e alle ragazze. Ci dice, insomma, i motivi per cui i fratelli non sono andati. Dice, beh, Rikon è piccolino, le ragazze sono ragazze, quindi non le hanno portate. Jon, invece, non si trova. E Bran ci dice, Bran did not look for him very hard. He thought Jon was angry at him. Jon seemed to be angry at everyone these days. Bran did not know why. Quindi Bran ci dice che, appunto, Jon non lo trova, ha detto, non è che Bran l'abbia cercato poi più di tanto, perché ha paura, in questi giorni, che Jon sia arrabbiato con lui. Anche se dice, è vero che però, sembra che ultimamente sia arrabbiato con tutti. E Bran non riesce a capirne il motivo. Anche perché ci dice che He was going with Uncle Ben to the wall to join the Night's Watch. That was almost as good as going south with the king. Rob was the one they were leaving behind, not Jon. Allora, dal punto di vista di Bran, che, ricordiamo, vuole far parte della Guardia Reale, no? Che è praticamente la versione del sud dei Guardiani della Notte. E Bran dice, perché sei arrabbiato se stai andando a fare una cosa che effettivamente tu vuoi fare? Cioè, stai andando a fare una cosa figa, perché per Bran è una cosa molto figa. Perché poi in realtà è una cosa figa. Però Bran dice, cioè, è bellissimo il fatto che vai a fare il Guardiano della Notte, no? Poi non stai neanche da solo, dice, perché avrai lo zio Benjamin insieme a te. Perché è bello come io che vado al sud, che tanto non sto da solo, perché intanto sto in un posto dove posso imparare tante cose, ma poi sto anche con le ragazze e con il nostro padre, quindi io sto tranquillo. Chi è quello che però in realtà rimarrà da solo, cioè che veramente rimane da solo, è Rob. Ditemi la vostra, ma a mio parere non ha tutti i torti. Nel senso, se ci pensate, Rob sarebbe rimasto da solo al nord, con... è vero che c'era la mamma, ma Rob ha anche il problema della posizione in cui si trova. Cioè, non è come il caso di Bran, Sans e Arya, che comunque vanno giù al sud e fai l'ospite, no? Cioè, alla fine, Rob no. Rob si trova in una condizione in cui deve entrare in comando. Un comando che gli è stato, diciamo, messo... cioè, gli è arrivato da capo a piedi così. Lui, ovviamente, è stato cresciuto per diventare l'erede di Grande Inverno, ma due settimane fa ridevo coi miei fratelli, domani uno se ne va alla barriera, quell'altro i van al sud. Mi è rimasto il bambino dei tre anni, che pureto c'ha tre anni, insomma, voglio dire... Io rimango qua come imbroccolo, e non solo, ma devo anche tirare avanti la baracca. Senza mi padre, vero che c'è la mamma, però capite che in una situazione di questo genere il punto di riferimento da lord è sicuramente il lord, quindi, non lo so, effettivamente io la pensavo come Bran, comunque, il fatto che in quest'ottica qui, di questo momento, Rob è un po' più sfigato, cioè, effettivamente sì. Quindi Bran è molto contento di andare al sud, e infatti ci dice, he was going to ride the king's road on a horse of his own, not a pony, a real horse. E qui vediamo che Bran, come abbiamo visto Arya e un po' le turpe da figlia minore, da sorella minore, qui vediamo invece, non le turpe, perché Bran sicuramente la vive meglio di Arya, cioè non c'è quel sentimento un po' di invidia che anima Arya in questo momento del libro, ma semplicemente Bran è animato da una voglia di fare, cioè lui vuole far vedere che è grande, vuole far vedere che è bravo, che può farle le cose, e infatti, come nel primo capitolo, un po' rosicava del fatto che i suoi fratelli avevano il cavallo e non il pony, adesso dice, aha, vedi, anche io adesso ho il cavallo, il che vuol dire che sto diventando grande, cioè sto acquisendo una posizione, e a Bran questa cosa piace. Dice, Ok, allora, quindi Bran dice fighissimo, nel senso andiamo al sud, mi padre diventa il primo cavaliere del re, top. Viviamo nella Red Keep, fighissimo, che è anche il castello dei re precedenti, che è stato proprio costruito da i re precedenti, quindi fighissimo. E non solo, Old Nan gli ha raccontato che ci sono delle segrete, insomma, quindi dei sotterranei, dove ci sono, sembra, dei fantasmi, e dove ci sono anche i teschi dei draghi, e qui veniamo introdotti al fatto che Bran è un appassionato di storie. Lui ama le storie alla forglia. Sansa e Bran sono i due personaggi tra la famiglia Stark che più di tutti amano le storie. E mentre Sansa si focalizza sulle storie d'amore, Bran si focalizza sulle storie di eroi, di magia, anche quelle che fanno paura, quindi tutte cose, insomma, avventurose, perché Bran è un bambino molto avventuroso, ed è per quello che io quando ho guardato la serie, all'inizio, nonostante io ho cominciato a guardare la serie proprio perché mi era piaciuto Bran, effettivamente, però non è che ti arrivava quello, cioè ti arrivava la parte dolce di Bran, un bambino dolce, che si arrampica di qua e di là e basta. Ma in realtà no, come tutti quanti anche Bran è stratificato e Bran ama le storie alla follia ed è importante per la sua caratterizzazione e sicuramente anche per il percorso che poi lui va ad intraprendere, quindi eroi e magia. E poi mi voglio focalizzare anche sul fatto che dice che questi teschi, queste segrete, davano a Bran i brividi, ma non di paura, perché Bran non aveva paura. E qui ritorna quello che dicevo nel primo capitolo, l'estremo orgoglio di Bran. Bran non ti farà mai vedere che ha paura, cioè piuttosto, penso, non lo so, si stacca un braccio. Lui non vuole farti vedere che hai ascendente su di lui, è stoico da questo punto di vista ed è molto ostinato. Ha una drive che io ammiro tantissimo ed è per questo che poi mi piace Bran. È testone, è orgoglioso e nonostante questo è molto molto sveglio, cioè non è sprovveduto, non fa le cose di getto come magari può fare roba. Bran was going to be a knight himself someday, one of the king's guard. Old Nun said they were swords of the realm. Quindi qui c'è il sogno di Bran, lui vuole diventare un cavaliere, perché Old Nun ha detto che i cavalieri, cioè che la king's guard è formata dai cavalieri più bravi dei sette regni e lui vuole essere uno di questi. They were only seven of them and they wore white armor and had no wives or children, but live only to serve the king. Quindi qui ci spiegano per la prima volta che cos'è la king's guard, quindi cosa comporta essere parte della king's guard. La king's guard è stata istituita, se non ricordo male, da Visenia, quando diceva che le guardie del fratello e marito Aegon Targaryen e il conquistatore non erano capaci e quindi hanno inventato questo sistema di sette guardie per rappresentare i sette regni che sono appunto i cavalieri migliori del reame che sono messi lì a servire e a difendere il re. E come tali, prendendo a spunto i guardiani della notte, non possono avere né mogli né figli e devono appunto servire il reame e soprattutto il loro re. Bran knew all the stories. Their names were like music to him. Quindi dice, Bran sapeva... Chi è who? Bran sapeva tutte le storie, li conosceva tutti a memoria, erano come musica per le sue orecchie. Infatti qui ci nomina Serwyn of the Mirror's Shield, Ser... Riam... Riam? Riam forse, perché forse è come Rian. Riam Redwine, Prince Emon the Dragon Knight, The Twin, Ser Errik and Ser Arrik che vediamo nella serie House of the Dragon perché fanno parte della danza dei draghi, The White Bull, Geralt Dightower, Ser Arthur Dayne, The Sword of the Morning. E il preferito di Bran, Bran, proprio il top, che è Ser Barristan Selmy, anche detto Barristan The Bold, che non mi ricordo in italiano. The Bold è tipo... Perché non avevano le parole Ser... Barry... in italiano? Ah, il valoroso! No, non potevo ricordarmelo, raga, scusate. Poi Bran ci dice che due delle Kingsguard, delle sette Kingsguard di Robert, erano venuti al nord. e Bran ci dice che Bran had watched them with fascination, giustamente, era molto affascinato da queste figure, essendo comunque i suoi beniamini, no? Never daring to... Never quite daring to speak to them. Però non ci ha mai parlato. Io i cagate ne voglio fare. E tra questi, ovviamente, c'è Jamie. Ci descrive Jamie. Jamie Lannister looked more like the knight in the stories, and he was of the Kingsguard too. But Rob said he had killed the old mad king, and shouldn't count anymore. Quindi, ci dice che... Perché Bran dice che sono due, ma in realtà sono tre. Perché dice che sono due? Perché per Bran, dice, quando io ho visto Jamie, Jamie è proprio quello che un cavaliere deve essere. Cioè, è così, punto. Per lui è così. Ma non solo per lui, per tutti, insomma. Non è una prerogativa di Bran. Però, dice che Rob gli ha detto che siccome Jamie ha ucciso il vecchio re, quindi si è macchiato, diciamo, della colpa... che insomma... di essere diventato un kingslayer, uno sterminatore di re, allora non si merita più questo titolo. Quindi Bran l'ha tolto dal conteggio, perché dice... Rob mi ha detto così. Effettivamente, diciamo, non è proprio etico. Non è etico, ma quello era un... pazzo furioso, e penso che, insomma, io, Jamie, lo ringrazierei. Ma... Ma è il mio pensiero da persona che non fa parte di quella società. Nella società, ovviamente, dite così, hanno ragione loro. Bran qui ci parla del suo amore per Ser Barristan. Infatti dice... Quindi dice che il più figo di tutti, come dicevo prima, è proprio Ser Barristan, che è anche il lord comandante della Kingsguard. E ha detto, poi aggiunge, che Ned gli ha promesso che avrebbe conosciuto Ser Barristan. E Bran non vede l'ora, quindi a questo punto, di scendere, perché per lui, dice, oddio, è fighissimo, farò il mio sogno, diventerò un cavaliere, conoscerò Ser Barristan, diventerò fighissimo, che figo la mia vita a inizio ora. Dall'altra parte, però, poi aggiunge, yet now that the days had... that the days was at the end, sadly Bran fell lost. Winterfell had been the only home he had ever known. Quindi dice, però adesso, insomma, prima vogliava, no? Dice, sei, ok, un giorno in meno, sì, che bello, ma adesso devo partire domani e comincio a dire oddio, però lascio casa mia, chissà se ci torno mai a casa mia. E Winterfell è la sola casa che Bran ha sempre avuto, quindi è molto difficile, giustamente, per lui staccarsi, no? E infatti dice che I feel lost, cioè si sentiva un po' perso dal fatto da lasciare Winterfell. e aggiunge che il padre gli ha detto che avrebbe dovuto fare i suoi saluti quel giorno. E Bran ci dice che ci ha provato e qui, secondo me, vediamo la dolcezza di Bran in realtà. La battuta di caccia, insomma, il gruppo è andato via. Lui, con il suo fedele metalupo sempre al suo fianco, ha cominciato, insomma, a correre per il castello per andare a fare i suoi saluti. Quindi sarebbe andato a salutare Old Nan e Gage il cuoco e Mikken il fabbro, Odor, che si occupa delle stalle. Ma Bran ci dice che non ci riesce. Non ci riesce perché la prima cosa che lui ha fatto è che è detto sì, ok, comincio facile. Te lo dico proprio così, così, la famo facile, poi dopo vado da chi è un po' più difficile. E dice, vado alle stalle. Qui dice lui, ha detto vado facile, vado a dir ciao al pony. È entrato, ha visto il pony, ha detto, eh, però, cioè, questo non è più il pony mio, perché adesso c'ho il cavallo. Oddio, non è più il pony mio. Oddio, la mia vita non ha più senso. E quindi, panico, panico, e ha detto, no, non ce la posso fare. Ha detto, senti, io non saluto nessuno perché me vi è da piangere. Quindi, niente. Perciò Bran ha detto, io, ho avuto un crollo emotivo semplicemente perché avevo capito che il pony non era più il mio pony, volevo piangere. Ha detto, senti, sai che ti dico. Me ne vado. E infatti dice, I turn and ran off before Odor and the other stable boys succeed tears in his eyes. Orgoglio. Dice, e, prima che Odor e gli altri che lavorano alla stalla si potessero rendere conto che Bran stava piangendo, si dà. E quindi, poi non ha fatto i saluti a nessuno. Ha detto, sentite, va bene così. Vi porterò nel mio cuore ma non ve lo dico perché sennò piango. E quindi, che cosa fa Bran invece? Bran decide di passare la sua giornata nel God's Wood da solo e a fare che cosa? Cercare di insegnare al suo metalupo a riportargli il bastone. Però non lo fa. Il suo metalupo è troppo oltre per riportargli il bastone. Sta lì, lo guarda e Bran dice, io lo so che lo fa apposta perché infatti dice, Bran would have sworn he understood every word that was said to him. But he showed very little interest in chasing sticks. Quindi, è proprio che dice, io lo so che lui non è che non sta capendo quello che deve fare, lui ha capito e nonostante questo non fa quello che dico. Fantastico. Dice, grazie mille della considerazione, caro metalupo senza nome, ma così è e mi spezza perché questo è molto anche da Bran. Infatti, vediamo spesso che i metalupi hanno delle caratteristiche dei loro padroni e in questo non è diverso da Bran, insomma, hanno caratteri ovviamente come anche tutti gli altri suoi fratelli molto simili Bran e il suo metalupo. E qui, Bran ci dice i nomi di tutti i metalupi dei suoi fratelli e perché li hanno chiamati così. Qui dice, Rob was calling his grey wind because he ran so fast. Quindi, Rob ha chiamato vento grigio vento grigio grey wind vento grigio perché è velocissimo. Sansa ha chiamato la sua lady. Senza spiegazione perché dice Sansa ha chiamato la sua lady. Autoesplicativo. And Arya named earth after some old witch queen in the songs. Arya ha chiamato la sua come una regina strega dell'antichità di cui insomma sentiamo nelle canzoni e il piccolo Rikon called his shaggy dog. E Rikon ha chiamato il suo shaggy dog che in italiano hanno chiamato come cagnaccio. Ma in realtà diciamo shaggy dog perché shaggy dog letteralmente è tipo è tipo un cane arruffato cioè col pelo arruffato era difficile perciò hanno chiamato cagnaccio probabilmente per far vedere l'indole del metalupo insomma perché cagnaccio è conosciuto effettivamente come il più grosso e il più aggressivo della filiata. Ma Bran non gli piace sto nome dice che è un po' stupido come nome e quindi niente passa a volte e dice John's wolf the white one was ghost Bran wished he had thought of that first even though his wolf wasn't white dice e John invece ha chiamato il suo ghost spettro e il nome è abbastanza figo dice mannaggia non mi è venuto a mente a me che è un nome figo anche se il mio metalupo non è bianco ma è grigio e infatti Bran ha il problema che ancora non ha dato il nome al suo metalupo e perché non gliel'ha dato perché dice he had tried a hundred names in the last four nights but none of them sounded right quindi dice aveva provato un sacco di nomi negli ultimi 14 giorni ma nessuno di questi nomi era giusto per il metalupo non clicca e quindi per adesso il metalupo di Bran non ha un nome poi si va avanti e Bran ci dice che si era scocciato insomma di giocare a questo gioco probabilmente da solo perché lanciava il bastone e lo andava a riprendere quindi ha detto senti lasciamo perde e decide di fare la cosa che gli piace di più nella vita ossia arrampicarsi Bran ha un amore spassionato per l'arrampicarsi che adesso qui ci spiega molto molto bene ed è anche appunto questo qui il capitolo dove scopriamo che lui ha questa passione e ci dice che a lui piace particolarmente andare ad arrampicarsi alla Broken Tower la torre spezzata dovrebbe essere in italiano correggetemi se sbaglio e dice siccome con tutto il casino che è successo corre tutto non ci sono andato da due settimane senti ci voglio tornare perché magari è l'ultima volta quindi vado nel mio posto preferito per andare ad arrampicarsi dal Gottswood decide di fare la strada più lunga perché perché così evitava di passare davanti all'albero del cuore albero del cuore che a Bran non piace perché gli mette ansia lo spaventa perché dice gli alberi non ci dovrebbero avere gli occhi e non dovrebbero avere neanche le foglie che sembrano delle mani qui mi piace introdurre una cosa che però è una teoria teoria ma magari adesso mi direte sì no lo sapevamo già oppure già che stai a dire ma diciamo che ultimamente rileggendomi insomma tutto quanto sto sviluppando una teoria che non so se c'è perché io tendo a voler farmi le mie di teorie diciamo questo qui è il mio approccio proprio da studiosa voglio studiare e capire tirare fuori le mie conclusioni e ultimamente la figura di Brindle Rivers ossia Blood Raven ossia quello comunemente conosciuto come il Corvo con tre occhi voglio ricordare a tutti quelli che hanno visto solo la serie il Corvo con tre occhi non è un'istituzione non è un ruolo il Corvo con tre occhi è semplicemente la manifestazione di Brindle Rivers nei sogni di Bran e Bran lo chiama Corvo con tre occhi ma non è un'istituzione cioè lui non è che nella vita fa il Corvo con tre occhi lui nella vita al limite fa Blood Raven o l'ultimo Green Seer Last Green Seer no ma il Corvo con tre occhi non è un ruolo cioè questa cosa qui che hanno trasformato in questo modo nella serie è allucinante non è un ruolo non è un ruolo che si passa ok non è così non è così perciò Bran non diventerà il prossimo Corvo con tre occhi avrà probabilmente gli stessi poteri di Brindle Rivers ma non è che è un'istituzione cioè non è che si passano perché si passano cosa cosa si passano vabbè lasciamo perdere in ogni caso che cosa stavo dicendo che sto sviluppando sto trovando sempre più indizi che mi fanno pensare che perché io sto alla ricerca del big cattivone della serie perché non è il Night King non è il Night King che secondo me è mani fredde non è il Night King secondo me è proprio Brindle Rivers il cattivone della serie finale perché Brindle Rivers a parte che già dal prologo se l'avete perso andatevi pure a rivedere il video ma si parla sempre di occhi di gente che osserva c'è sempre questo alone insomma del grande fratello che ti guarda e diciamo che è una figura molto strana considerando anche poi quando arriva Euron anche l'ultimo capitolo quello di Windsor Winter del fratello di Euron con il Kraken con un 10 10 zampe è vero che il Kraken ha sempre 10 zampe però insomma anche i discorsi che fa Euron sono delle frasi che ha detto anche Brindle Rivers sono cose molto molto strane io ultimamente guardo Brindle Rivers con un lato di affascinazione perché secondo me è uno dei personaggi più interessanti della serie mi piace tantissimo ma dall'altra parte mi puzza che sei a fa adulla quindi insomma poi magari c'è chi conosce bene Brindle Rivers magari aggiunga cose insomma ma io per adesso la penso così e nel libro non ho trovato per ora niente che mi faccia pensare il contrario o almeno che mi faccia escludere questa cosa quindi sì secondo me ha un ruolo importante nella lunga notte con gli estrani credo ci sia un collegamento poi mi direte insomma se siete d'accordo oppure no perché vi stavo dicendo questo perché Bran non si sente affine a sto come si chiama a questo albero il che appunto mi fa pensare che non è che lui si va a infossare dentro una caverna ma ha ben altri scopi e importanza che nella serie non abbiamo visto ma vabbè non importa comunque ok anche Bran arriva dove deve arrivare per arrampicarsi e comincia ad arrampicarsi dice al suo metalupo di stare fermo e lui tranquillamente ubbidisce ma appena lui comincia ad arrampicarsi il suo metalupo comincia a ululare e Bran non capisce perché perché di solito il suo metalupo dice è molto molto silenzioso cioè non è che fa casino e dice his wolf fell silent quando Bran l'ha guardato staring up a team though through slitted yellow eyes quindi proprio hanno questo contatto visivo e Bran ci aggiunge a strange chill went through him quindi una strana sensazione l'ha invaso detto oddio che è cioè che succede però decide di ignorarla e di continuare a salire e più saliva più il suo metalupo si agitava però Bran gli dice no quiet sit down stay you're worse than mother quindi buono zitto non fa casino cioè sei peggio di mi madre mi spezza perché è proprio una cosa che un ragazzino direbbe e qui inizia una parte molto interessante del rapporto di Bran e Winterfell come ho detto anche nello scorso capitolo quello di Arya più la storia andrà avanti più vedremo che i ragazzi Stark e intendo soprattutto le ragazze quindi Sansa Arya e Bran hanno diciamo uno scopo il loro è tornare a casa e ce l'hanno loro tre cioè John non ce l'ha questa cosa non ha la cosa io voglio tornare a casa voglio tornare dalla mia famiglia lui a un certo punto sviluppa la cosa che dice voglio aiutarli cioè voglio entrare in battaglia ovviamente per aiutarli cosa giustissima ma diciamo non ha questo tipo di rapporto nella storia quindi vediamo Sansa e Arya che come giustamente mi avete detto anche in uno dei commenti dello scorso video sono la luna e il sole e quindi diciamo che si equivalgono molto e come tale entrambe hanno la storia legata al fatto che loro vogliono tornare a casa e che sono le figlie dei loro genitori loro tantissime volte si danno forza dicendo io sono la figlia di Ned Stark io sono la figlia di Kathleen Tully e ce la posso fa oppure io non voglio stare da sola voglio tornare a casa voglio stare con i miei fratelli voglio stare a casa mia quindi loro ce l'hanno molto Arya ha assolutamente la paura di rimanere sola giustamente lei non vuole essere sola lei non vuole essere un lone wolf e lei si sente lone wolf perché dal suo punto di vista sono tutti morti quindi ha questo dramma questo trauma e ripeto il fatto che poi tu alla fine nella serie me la fai proprio diventare sola non hai capito un cazzo e c'è proprio vabbè ma ci stupisce no nel caso di Sansa lei è proprio perché sente stretto il fatto che è una lady lei sente che la gente vuole cose da lei semplicemente perché si chiama Sansa Stark e lei non rinnega il fatto di essere Sansa Stark però vuole tornare in un ambiente che la ama per quello che è e la sua famiglia la ama per quello che è e lei ha questo sogno di tornare a casa sua e stare con i suoi fratelli con la sua famiglia lei è proprio di attachment per quanto riguarda proprio il sentimento Arya ovviamente è sempre il sentimento di affetto ma portato dal fatto che ha una gran paura di rimanere da sola per quanto riguarda Bran è leggermente diverso è meno emotivo sicuramente ma di tutti i suoi fratelli è meno emotivo cioè scazza molto di meno pensa molto di più diciamo ha un approccio molto diverso ma la cosa che caratterizza Bran particolarmente e in questo capitolo si vede bene è il suo strettissimo legame con Winterfell cioè lui si sente proprio strettamente legato a Winterfell e effettivamente Winterfell sembra legato a Bran è bellissima la frase del prologo del secondo libro che poi vedremo tra un po' di tempo dove appunto Bran si paragona a Winterfell al Winterfell bruciato che dice ok va bene ma sotto la terra di Grande Inverno ci sono i re dell'inverno e sono forti come le radici che stanno sto parafrasando come le radici che stanno sotto Grande Inverno e dice Grande Inverno come questi re non è morto è solo spezzato è solo distrutto e dice come lo sono io ma non sono morto nemmeno io ed è bellissimo cioè è un modo fighissimo secondo me di chiudere un libro c'è proprio quella promessa del ok le abbiamo prese va benissimo adesso sembra che non c'è speranza ma la speranza c'è perché io sono ancora vivo e io in questo cazzo di castello ci ritorno Bran è molto legato al suo essere erede di Grande Inverno ed essere parte integrante di Grande Inverno e questo è innegabile Bran quando si deve fare forza quello che dice sempre non è sono figlio di mio padre sono figlio di mia madre ma dice io sono l'erede di mio padre sono l'erede di Rob e sono l'erede di Grande Inverno principe del nord e questo è un fatto cioè lui si fa forza sta facendo questa cosa qui e lui vuole tornare perché si vuole riprendere Grande Inverno e sta cercando tutti i modi tra cui andare a fanculo al nord per cercare un modo per diventare utile infatti mi ricordo adesso faccio una degressione magari anche cretina però c'era per un periodo io sono fan della serie per carità però questi memini di io non so se conoscete Vikings ma di Ivar The Boneless lui e Bran non a caso perché non so se conoscete la storia di Ivar e di Ragnar se volete magari una volta ci facciamo anche un excursus perché è molto interessante ed ha molte connessioni in realtà con la famiglia Stark e Bran e Ivar hanno tantissime cose in comune la disabilità è una di queste che li accomuna nel caso di Ivar ci nasce nel caso di Bran purtroppo ci diventa nel corso della sua vita cosa succede però che Ivar nella serie ma come anche è stato nella storia è uno che non si arrende mai cioè lui trova tutti i modi sia intellettualmente che fisicamente per cercare di di essere alla pari di chi dei suoi fratelli che invece sono diciamo normodotati quindi hanno un vantaggio su di lui cosa che lui ovviamente fa fatica no? ma nonostante questo nella serie hanno messo delle scene incredibili stupende raga veramente alcune sono veramente allucinanti dove lui proprio cioè ti fa vedere che ok io ho questa debolezza ma non vuol dire che valgo meno di te benissimo e c'erano questi memini in cui uno fa ok questo è Ivar e poi c'è Bran che invece dice no ma io invece no sono rotto sono spezzato non posso fare niente e basta no cioè no tu non mi puoi far diventare Bran in questo modo ragazzi no se avete visto solo la serie vi prego cioè è stato uno dei più grandi disservizi che hanno fatto a Bran nel caso di Bran perché come dico sempre a tutti hanno fatto dei grandissimi disservizi e veramente cioè lasciamo perdere però nel caso di Bran che ha questo questo argomento delicato che è affrontare la disabilità in un mondo dove la disabilità diciamo è ancora più difficile perché non sei proprio considerato trasformarlo in uno che sta lì e si beve la sua condizione sta lì solo a croggiolarsi nel senso nel nel fatto che dice ma io d'altro non posso fare niente ma non è vero non è vero Bran e questo lo vedremo in questo libro ma è un argomento che a Bran è molto molto caro è il fatto appunto del sconfiggere questo pensiero che lui ha su di sé perché lui per primo si sente di non valere più nulla perché vive in una società che gli dice questo cioè se a te mancano delle cose come nel caso di John solo che John ce l'ha di parentage cioè di eredità Bran ce l'ha di fisico che non vuol dire che è meno problematico anzi anzi tutti quanti lo prendono per scontato tutti quanti pensano che insomma non valga nulla ma non è così e lui per primo cerca di trovare la forza per vedersi con occhi nuovi per accettare questa sua condizione e Bran è scritto molto bene a me piace veramente tantissimo e lui fa di tutto per cercare di rendersi utile per la sua famiglia e il suo popolo lui vedremo tantissime volte un maestro lui imparla ma perché non posso tipo usare quest'arma ma perché non posso imparare a fare questa cosa ma è il motivo per cui lui poi si vuole avvicinare alla magia perché vuole essere utile vuole essere utile lui ha questa urgenza di aiutare la sua famiglia di aiutare il suo popolo e tu questa cosa non gliela puoi togliere perché è alla pari di Ivar cioè poi Ivar ha più la drive di Recon nel senso che se te pia te sfonda proprio crack 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 cioè molto più passionale rispetto a Bran ma sti memini sono assolutamente fuori luogo se tu conosci Bran vero Bran vero è così lui farebbe qualsiasi cosa lui sta cercando in tutti i modi di diventare di poter aiutare tutti i modi tutti quanti quelli che conosce ed è per quello che va a fanculo a nord non è che a cazzo così lo sceglie lui di andare a nord vabbè digressione incredibile ma andiamo avanti tanto poi queste cose comunque le ripeterò fino alla noia perché alla fine quando leggo i capitoli vi dico quello che penso che alla fine io la penso così quindi tornerà tantissime volte perciò insomma saranno concetti che ribadirò tantissime volte e niente vabbè andiamo avanti quindi Bran e Grande Inverno the rooftops of Winterfell were Bran's second home his mother often said that Bran could climb before he could walk e quindi dice i tetti di Grande Inverno erano la casa di Bran cioè lui stava sempre lì era una seconda casa per lui e la madre gli ha sempre detto che Bran ha iniziato a arrampicarsi ancora prima di poter iniziare a camminare e Bran aggiunge dice lui non se lo poteva ricordare ergo doveva essere vero se la mamma glielo diceva e tua boy Winterfell was a grey stone labyrinth of walls and towers and country and tunnels spreading out in all directions quindi dice Winterfell era praticamente un labirinto di pietra con muri e torri e tunnel che si diramavano in tutte le in tutte le direzioni quindi Winterfell è molto complesso come tipo di castello the place had grown over the centuries like some monstrous stone tree master luin told him once and its braces were gnarled and thick and twisted its roots suck deep in the earth quindi dice che praticamente Winterfell è cresciuto cioè non è che è rimasto sempre uguale Winterfell si è espanso proprio come le radici di un albero e quindi si espande si espande si espande e quindi insomma ha proprio il senso di una cosa cioè è enorme è mastodontico è mostruoso ed è cioè è proprio ancorato a terra è molto molto figo quindi dice che Abram piaceva mettersi sopra guardare perché aveva solo il cielo vicino sopra di lui con gli uccelli intorno a lui e guardare la vita di Winterfell sotto di lui quindi vedere tutto Winterfell diramato tutta la gente che ci vive era una una vista che a lui piace particolarmente e ci sta per ore cioè dice comunque lui passa la vita lì praticamente e questa sensazione di vedere tutte le persone tutte le loro vite i cani che girano poter vedere il God's Wood da lontano lo faceva sentire in un modo particolare che è questo qui il made him feel like he was lord of the castle in a way even Rob would never knew quindi dice lo faceva sentire come se lui fosse il lord del castello in un modo in cui neanche Rob sarebbe mai stato e questa è una frase potente cioè una frase potentissima secondo me proprio fa vedere il contatto viscerale che lui ha cioè lui sente di conoscere Winterfell in un modo particolare di viverlo in un modo particolare più intimo che neanche Rob che nonostante Rob diventerà il lord di grande inverno dice sì però tu non lo conosci così cioè nella visione di Bran nel sentimento di Bran dice sì giustamente diventa lui il lord però io lo conosco meglio io proprio lo vivo in maniera differente e infatti Bran ci dice it taught him Winterfell secrets tu quindi dice lui sa anche i segreti di grande inverno infatti qui insomma ci dice che ci sono dei dei sentieri diciamo tra le mura particolari che non tutti conoscono magari che ci sono anche dei ponti che magari non ci va mai nessuno e invece lui girandolo in continuazione li ha beccati tutti quindi diciamo che Bran sa molti segreti e molti accessi a grande inverno cosa che mi fa pensare che quando lui tornerà a casa credo alla fine di Windsor Winter spero ma dovrebbe essere più o meno così a mio parere lui passerà dalle segrete di grande inverno infatti si dice che le segrete di grande inverno siano così profonde e così diramate che arrivano anche oltre la barriera e quindi secondo me lui torna a casa in questo modo qui cioè esce fuori proprio dalle tombe qui ovviamente non è che ci fanno vedere che la famiglia di Bran è sproveduta a far salire un ragazzino di 7 anni sulle mura perché Kathleen che ha manco 35 anni ha già i capelli bianchi perché sto ragazzino sta sempre appiccato ai cacchio di muri infatti Bran ci dice quindi dice che la madre era terrorizzata che un giorno Bran sarebbe scivolato e si sarebbe ammazzato ma Bran diceva ma no le risponde proprio che non sarebbe scivolato ma lei non gli aveva mai creduto quindi dice una volta la madre gli ha fatto promettere che non si sarebbe più arrampicato e lui ci ha provato ci ha provato per 14 giorni ci ha riuscito ma detto comunque la viveva male cioè la viveva molto male e quindi una notte mentre i suoi fratelli dormivano è uscito dalla finestra ma il giorno dopo si è sentito in colpa e quindi è andato a dirlo ai genitori e Ned l'ha fatto andare una notte nel God's Wood perché così chiedeva pietà per i suoi peccati diciamo e c'erano delle guardie fuori dal God's Wood e di modo che lui potesse rimanere da solo di notte a pregare e a chiedere perdono ma the next morning Bran was nowhere to be seen quindi non si trovava quindi dice ma alla fine l'hanno trovato appiccato ai rami più alti dell'albero più alto che c'è nel God's Wood a dormire e al che Ned come reagirà as angry as he was his father could not help but laugh you're not my son he told Bran when they fetched him down you're a squirrel so be it if you must climb then climb but try not to let your mother see you quindi dice ok era incazzato ma comunque ha riso ha detto ok sai che ti dico visto che sei uno scogliattolo sali fai quello che vuoi arrampicati ma ti prego non farti vedere da tu madre se no memoria di infarto e Bran ci dice che lui poi ha provato insomma a non farsi scoprire dalla madre ma non gli è riuscito cioè Catelyn te becca e siccome il padre non l'aveva non l'aveva non l'aveva impedito allora Catelyn si gira e cerca altri alleati per fermare sto figlio da arrampicasse per tutti i muri e da chi va primo tentativo Old Nan Stuck Down no Old Nan told him a story about a bad little boy who climbed too high and was struck down by lightning and now afterward the crows came to pack out his eyes la tecnica di Old Nan è stata io racconto una storia una storia di un bambino che si è arrampicato troppo in alto è stato colpito da un fulmine e che i corbi praticamente gli sono volati addosso e gli hanno mangiato gli occhi ma Bran non gli ha fatto niente sta cosa e ha detto quindi dice mi sa che sta storia è un po' una stronzata dice Bran quindi primo primo tentativo fail niente non ce la famo secondo maestro Lewin maestro Lewin built a little potry boy and dressed him in Bran's clothes and flag him off the wall into the yard below to demonstrate what would happen to Bran if he fell dice quindi maestro Lewin che cosa fa qual è invece la tecnica di maestro Lewin ha fatto un fantaccio di creta e l'ha vestito con i vestiti di Bran e che cosa ha fatto ha spinto questo fantaccio dal tetto questo fantaccio è caduto e sta tutto rotto e per fargli vedere quello che gli succederebbe se cadesse e Bran reagisce in questo modo that had been fun but afterward Bran just looked at the maester and said I'm not made of clay and anyhow I never fall quindi Bran dice è stato divertente vedere sto coso che scendeva però poi lui ha guardato il maestro e gli ha detto semplicemente io non sono fatto di creta e comunque io non cado mai quindi e qui già vediamo perché questa qui è una frase che sarà molto importante I never fall I never fell non cado mai non cado mai e fell è anche un sinonimo in inglese di fell come inchinarsi come cedere qualcosa e lui è sempre I never fell I never fall I never fell I never fall e anche quando sarà caduto lui manterrà sempre questa cosa qui cioè lui dice io in cuor mio lo so che non so caduto non è di peso da me non so che è successo ma non è di peso da me sicuro quindi secondo attempt fail terzo attempt quindi dice che a questo punto erano le guardie che invece ogni volta che lo vedevano appeso al muro lo rincorrevano e quello per Bran era il momento più divertente perché perché it was like playing a game with his brothers except that Bran always won none of the girls could climb half so well as Bran not even Jory most of the time they never saw him anyway people never looked up there was another thing he liked about climbing it was almost like being invisible quindi dice che per un po' cioè appunto che questa cosa lui lo divertiva tantissimo perché sentiva come se stava giocando con i suoi fratelli però era un gioco dove lui vinceva sempre perché nessuno riusciva ad arrampicarsi bene di in alto tanto quanto lui neanche Jory che Jory i ragazzi Stark vogliono un bene dell'anima a Jory quindi diciamo che molto spesso fanno no ma neanche Jory ci riesce come per fare no cioè è un figo quindi e quindi è un'altra cosa che infatti Bran piace è il fatto dell'arrampicarsi è il fatto che la gente normalmente non guarda in alto e quindi lui passa avanti passa sopra e infatti molte guardie neanche se ne accorgevano e gli piace perché sembra tipo che sia invisibile cosa che sicuramente è un foreshadowing del fatto che poi lui riuscirà ad entrare negli alberi a controllare perché anche questo come racconta Bloodraven non è come nella serie eccolo non è come nella serie che Bran gioca a fare Doctor Who dove lui va in una scena vive quella scena perché nella serie hanno fatto che lui cammina nella scena quando no perché Bran è semplicemente dentro l'albero e fa come spettatore silente lui non non può cambiare il passato anche Bloodraven glielo dice tu non puoi cambiare il passato tu puoi solo osservare e imparare da esso non c'è modo che tu hai potere su il passato perché il passato è scritto tu hai soltanto il presente il passato che puoi osservare e il futuro che però non è definito e tu tramite questi insegnamenti che hai prendi delle decisioni questo è ma da nessuna parte viene detto che si può cambiare il passato da nessuna parte quindi no anche questo è smontato Bran non può cambiare il passato Bran può fare da spettatore silente cosa effettivamente fa quando vede Ned vede Lian e Benjen la tizia bionda che uccide un tizio davanti all'albero del cuore oppure del presente come per esempio è quando Theon sente la sua voce nel vento ma non può cambiare il passato magari se lui parla come succede nella visione di Ned si sente tipo un vento il vento passa e magari ti fa girare ma non stai cambiando il passato capito quindi così quindi Bran non cammina nei suoi nei suoi viaggi con poi con il bloodraver Bran viaggia sempre da solo sempre non c'ha la guida lui da che entra negli alberi sta da solo non c'ha vicino a lui il corvo con tre occhi quindi anche la cosa che lui si sveglia del botto e va da solo e allora poi crea il casino con gli estranei è una cagata sempre per far vedere che Bran è scemo ma Bran non è scemo manco per niente veramente e si muove da solo Bran è capacissimo di fare le cose da solo e ci tiene anche a fare le cose da solo quindi andiamo avanti quindi ci dice che appunto a lui gli piace proprio l'azione di arrampicarsi perché dice gli piace anche proprio sentire magari dolore sulle spalle sulle spalle quando si arrampica lui di solito si arrampica a piedi nudi quindi sentire la roccia tra le mani sotto i piedi poi gli piace andare appunto a vedere questi corvi dice che lui vede sempre quando sta la broken tower e non solo perché la cosa che gli piace di più quindi c'è la cosa che però gli piace di più di tutti è proprio il fatto che lui scopre i posti dove non ci va mai nessuno che neanche nessuno conosce e che vede Winterfell lì sotto di lui mentre lui lo guarda e lo fa sentire in un modo cioè in quel momento Winterfell per lui è come il suo posto segreto perché lui sa tutto di grande inverno quindi appunto rivedo un rapporto molto molto intimo con casa sua il suo posto preferito come già vi ho citato è la broken tower la broken tower che ci racconta appunto la storia della broken tower era la torre più antica di grande inverno che è stata colpita da un fulmine e ha preso fuoco e i primi tre piani sono collassati però la tower questa tower non è mai stata ricostruita è rimasta sempre così e è un posto particolare perché nessuno ci va cioè appunto siccome è rotto non ci va nessuno ci va solo Bran adesso arrivano i guai perché Bran si arrampica si arrampica fa il suo spiderman tranquillamente lui sale con serenità sale 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 e a un certo punto mentre sta salendo sente una voce di donna che dice I don't like it quindi non mi piace questa cosa you should be the hand lei dice quindi dice tu saresti dovuto essere il cavaliere del re e una voce di uomo dice gods forbid a man's replying lazily it's not an honor I want there's far too much work involved quindi dice no no per carità non è proprio sia mai c'è troppo lavoro da fa io non me va insomma e Bran che sta ancora appeso cioè sente questa cosa e sente la sensazione come se ha paura ad andare avanti si blocca no un attimo e sente la conversazione di questi due tizi quindi lei continua a dire che questa scelta qui insomma è molto pericolosa perché Robert vuole bene a Ned come se fosse suo fratello e invece l'uomo tende a minimizzare la cosa e che lei si incavola e dice non fa lo scemo insomma non fa finta di essere scemo stanno i serrelli non sono pericolosi però Eddard è un'altra cosa cioè Robert ascolta Eddard e infatti dice mannaggia a me avrei dovuto insistere di più a farti scegliere a te come come primo cavaliere però dice però pensavo che Ned che Stark avrebbe avrebbe rifiutato questa cosa al che il tizio l'uomo risponde dice ma dai guarda ma ci possiamo considerare fortunati the king might as well have named one of his brothers or even little finger gods help us give me honorable enemies rather than ambitious ones and I sleep more easily by night e qui uomo che insomma chi sarà mai andiamo a vedere ha ragione ha ragione e qui ci viene anche nominato little finger per la prima volta nominato come un personaggio cioè comunque una persona abbastanza pericolosa perché è ambizioso perché è ambizioso non solo lui ma a quanto pare anche i fratelli di Robert ma sappiamo che insomma ad ambizione nessuno equivale a little finger e quindi quest'uomo dice guarda preferisco affrontarmi con centomila persone onorevoli rispetto ad ambiziose perché quelli sono pericolosi e a questo punto Bran dice cazzo ma stanno parlando dei miei padri ed è per questo che lui sale cioè nella serie tu non mi puoi far curiosare un bambino di dieci anni perché sente rumori molesti cioè Bran come al solito perché ripeto Bran ha sempre questa urgenza di aiutare lui è un personaggio che se sente cose che non è lui vuole andare ad aiutare e qui dice stanno a parlare dei miei padri in versione non proprio carina che cazzo siete voi due e quindi dice io voglio saperne di più perciò si arrampica ancora un po' di più la donna dice dovremmo osservarlo attentamente e l'uomo fa no preferisco guardare te donna Jamie flirt santo cielo mamma mia ma la donna continua e dice Lord Eddard has never taken any interest in anything that happened south of the neck never I tell you he means to move against us ah ok e dice Lord Eddard non si è mai interessato di niente che era al sud praticamente sotto all'incollatura lui non si è mai fregato di un cazzo e quindi dice perché adesso gli interessa I tell you he means to move against us what else would he leave the seat of his power quindi dice credimi te lo dico io che lui sta tramando qualcosa contro di noi perché se no perché lascerebbe il luogo del suo potere che per una che effettivamente non sa le cose che sono successe diciamo la vicenda della lettera effettivamente è molto sveglio da parte di Cersei ed è molto sveglio da parte di Martin perché ti fa proprio pensare che questi siano colpevoli per la morte di John Arryn quando ovviamente poi non è così ed è scritto benissimo cioè ragazzi ci credi ci credi ci credi e questo sarà utile poi dopo che anche quando loro ti dicono non ne so un cazzo tu dici ma che cazzo dici quindi è molto molto interessante mi piace un sacco questa dinamica però l'uomo risponde che dice guarda ci stanno un milione di motivi per cui questo scende il dovere l'onore magari vuole e questo improietta quello che vuole lui magari vuole scrivere il suo nome sulla storia insomma sul libro quello di storia vuole fare cose fighe per essere ricordato oppure dice anche per scappare da sua moglie no cioè perché no o magari vuole stare al caldo per una volta nella vita cioè ci stanno un milione di motivi non fa molla complottista dice no Cersei dice quindi ci fa capire che Liza ha mosso delle accuse anche verbali proprio a loro cioè quindi loro lo sanno che lei sospetta di loro e dice la moglie di Ned è la sorella di Liza cioè a me mi pare strano che questa non sta qua a dire bestia hanno ucciso mio marito cioè è una pazza insomma dal punto di vista di Sersi effettivamente è una pazza ma non solo dal punto di vista di Sersi da tutti i punti di vista è una pazza l'uomo dice ma quella lì c'ha paura cioè è una che è spaventata di tutto pure dell'ombra sua ma che ma lascia sta ma pure le cose che dice ma chi la prende in considerazione whatever she knows whatever she thinks she knows she has no proof or does she dice cioè tutto quello che lei dice perché può essere valorosa quanto gli pare però qualunque cosa pensa qualunque cosa dice ma non ha le prove no o ce le ha dice che prove c'ha e la donna risponde ma pensi che il re avrebbe bisogno delle prove cioè le risponde I tell you he loves me not dice cioè te lo dico non mi ama e qui Jamie le risponde and whose fault is that sweet sister cioè se lui non ti ama di chi è la colpa sweet sister quindi capiamo che questi due sono fratelli brutta storia bruttissima storia a questo punto Bran continua a voler sentire dice lui era sicuro dice che io non le dovrei sentire queste cose però non mi piace come se stammette voglio sentire la donna dice you are blind as robert mi sei cieco come robert e l'uomo dice if you mean I see the same thing yes dice se tu mi dici che vedo le stesse cose di lui è vero I see a man Ned quindi I see a man who would sooner die and betray his king dice quindi io onestamente vedo un uomo che morirebbe prima di tradire il suo re quindi sicuro questo non scende giù per rompercazza a noi questo è quello che dice Jamie he betrayed one already or have you forgotten the woman said quindi dice già ne ha rotto uno di giuramento o te lo sei scordato e parla della ribellione di robert contro i targaryen oh I don't deny he's loyal to robert that's obvious what happens when robert dies and joff takes the throne and the sooner that comes to pass the safer we all be my husband grows more restless every day having stuck beside him only make him worse he's still in love with the sister quindi dice va bene dice io lo so che lui è leale a robert ma che succede nel momento in cui robert muore e joffrey prende il posto cioè possiamo fidarci di questo tizio qua dice perché mio marito diventa sempre più restless tipo agitato no tutti i giorni e avere stark vicino a lui farà solo peggio non so sicuro mi sente meno a me sente più lui anche perché ama ancora la sorella quindi appunto qui ci dice che robert ama ancora lianna l'abbiamo capito anche dal quarto capitolo how long till he decides he put me aside for some new lianna dice quindi cersei ha paura che un giorno suo marito la possa ripudiare evidentemente ci stanno delle dicerie perché può essere che considerando che poi l'ora serrelli volevano fa sposa a margeri probabilmente diciamo che la posizione di di cersei non era proprio assicurata alla grande insomma brann suddenly fell no brann was suddenly very frightened he wanted nothing so much as to go back the way he had come to find his brothers only what would only what would he tell them he had to get closer brann realized he had to see who was talking quindi è brann era spaventato e ha detto dice e voleva andare via e parlare con i suoi fratelli di questa cosa però andare indietro e dire dove che prove ho io di aver sentito sta cosa e quindi devo vedere meglio devo ascoltare di più devo vedere chi sta parlando intanto jamie e cersei diciamo si districano nelle loro attività brann allora si arrampica si arrampica ma non è che si stava arrampicando cioè lui fa un giro praticamente qui c'è la finestra e lui fa un giro di questo tipo qua cioè lui così voleva fare e cioè mettersi a testa in giù e vedere così poi si tirava su e se ne andava ma lui quando fa questa cosa qui quindi si affaccia vede giù e vede la faccia della tizia la faccia della tizia che appunto riconosce come quella della regina però lei apre gli occhi e urla al che lui si spaventa e lascia la presa lascia la presa e quindi cade infatti dice proprio che ha sentito tipo la sensazione del vuoto però si rigira e si aggrappa tipo al cornicione della finestra e quindi lui rimane appeso così ma ormai era stato beccato a quel punto due facce appaiono da sopra di lui e uno la regina e l'altro riconosce appunto come Jamie e al che succede questo he saw us the woman said she ci ha visto dice la donna tipo urlando un po' impanicata e so he did the man said dice si è vero l'ha fatto al che Bran stava ancora attaccato a guardarli cioè stava così però stava tipo scivolando perché era un po' umidiccio la roccia al che il tizio che ormai sappiamo essere Jamie tira sulla mano cioè gli porge la mano e gli fa prendimi la mano prima che cadi quindi dice take my hand he said before you fall e Bran lo fa quindi Jamie lo tira su e lei la donna oddio ma che stai a fare lui la ignora l'uomo quindi Jamie la ignora e Bran si rende conto che Jamie è molto forte cioè su come lo tiene e Jamie gli fa how old are you boy gli fa quanti anni hai e lui seven Bran said shaking with relief quindi insomma poverino si è visto la morte in faccia ha detto ok no meno male e stava tenendo pure lui Jamie così visto che lui si è reso conto che stava tipo stringendo troppo il braccio di Jamie allora ha lasciato la presa e questo purtroppo poi è stato diciamo fatale perché a questo punto Jamie si gira verso Cersei e dice la famosissima frase the things I do for love e spinge Bran fuori dalla finestra quindi dice lui cade quindi sta nel vuoto e avverte l'impatto con con il come si chiama con il terreno e intanto mentre cadeva sentiva un lupo ululare quindi quello sicuramente era il suo metalupo e vedeva i corvi che circolavano sopra la broken tower mentre aspettavano il grano allora a me questo capitolo come tanto vi dico sempre mi piace tanto ma mi piace perché non è semplicemente sto ragazzino che sale e viene buttato giù come è nella serie cioè fammi vedere bene il rapporto di questo bambino con l'arrampicarsi che cosa vuol dire per lui come dicevo prima l'ho spiegato insomma abbastanza Bran ha un rapporto viscerale con Grande Inverno che si vede e si sente a lui piace casa sua gli piace in un modo particolare non solo questo ma un'altra cosa che mi dà molto fastidio nella serie è quando Kathleen lo vede Kathleen lo vede e cioè lo fa scendere e dice sì ma mi avevi detto che non ti arrampicare più e lui no vabbè non mi arrampico più e lei fa guarda che lo so che menti quando ti guardi le dita dei piedi no perché Kathleen se lo vedeva appeso lì probabilmente non l'avrebbe fatto uscire per 14 giorni cioè voglio dire ma perché mi snaturalizzi Kathleen pure qua cioè questa cosa Kathleen era terrorizzata dal fatto che lui cadesse per quello che poi dopo è ancora più distrutta perché lei lo sapeva dice questo prima o poi mi cade in memore cioè così facevi meglio a farlo vedere da Ned perché è più canon perché Ned gli avrebbe fatto ma avevi detto che non lo facevi vabbè scusa ma guarda tanto lo so che mi dici una stronzata quindi vai vai ti preoccupa perché l'ha fatto ma perché me lo fai fare a Kathleen cioè non è che cioè magari sembra un'inezia ma invece è importante perché cioè Kathleen era terrorizzata era la sua più grande paura che sto fio cadesse e infatti poi dopo insomma è caduto cioè è importante questa cosa poi appunto nella serie me l'hai reso molto banale cioè voglio dire non è che lui si arrampica sente dei rumori molesti allora perché guardone va a vedere che stanno a fa questo sente un complotto sente un complotto e dice cazzo no aspetta a me mi servono le prove io almeno devo vedere chi cazzo è sta gente cioè devo essere sicuro di chi è e poi lo posso dire ma lui voleva difendere la sua famiglia perché aveva sentito gente che parlava male della sua famiglia in un modo pericoloso quindi non è un guardone perché c'erano anche questi memini non è un guardone è un ragazzino che ha un grandissimo coraggio santo cielo io non lo so boh come al solito è tutto banalizzato non capisci perché a lui piace arrampicarsi a lui piace arrampicarsi e basta nella serie no ci sono dei motivi dei motivi importanti e poi lui è sempre circondato da sti cazzo di corvi non a caso è circondato dai corvi perché ha osservato e questo è un fatto perché anche Bloodraven gliel'ha detto quindi il fatto che lui ha sempre sti corvi intorno perché ha osservato da Bloodraven da sempre da sempre e tu non me lo puoi togliere non me lo puoi togliere e niente quindi questo era l'ottavo capitolo del gioco dei troni spero che vi sia piaciuto fatemi sapere tutto quello che volete ovviamente nei commenti discutiamone insieme fatemi sapere i vostri pensieri insomma su questo capitolo su Bram quello che volete insomma vi ricordo che se avete teorie di cui vogliamo parlare personaggi che vogliamo analizzare o scene della serie che vi hanno fatto altamente cagare nei commenti scrivetemi tutto quanto poi vi ricordo che se vi fa piacere mi potete seguire anche su Instagram ultimamente sto facendo tipo una challenge di marzo una challenge Song of Ice and Fire 30 days challenge se volete andarla a vedere volete partecipare fate pure mi potete o ribloggate il post o fate un post o fate una storia mi piacerebbe essere taggata perché vorrei vedere le vostre risposte se vi va di farlo comunque trovate tutto sul mio account Instagram io detto ciò vi ringrazio come sempre ed è stato ovviamente un piacere ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata e un nuovo sbrocco di A Game of Talks ciao perché perché boulder non è valoroso questo dopo che Uncle Ben sì Uncle Ben ah vabbè sia audace sì sì ok ok non è vero taglia ciao ciao ciao